Poco meno di 2.000 imprese iscritte al portale e 250 partecipanti al Premo Lazio Innovatore. La parola d'ordine per la sfida lanciata dalla Regione Lazio è innovazione. Tutti e 24 finalisti questa mattina attraverso dei pitch della durata di 3 minuti ciascuno hanno presentato le loro idee volte ad un potenziale economico di business appetibile per i potenziali investitori. Solo 4 di loro hanno vinto. Per la categoria Best Startup il vincitore è Oli, una piattaforma hardware e software per la realizzazione di tutori ortopetici innovativi. Per la categoria Best PMI ha ritirato il premio da 220.000 euro la Filo SRL, un'applicazione per iOS e Android gratuita che consente in poco tempo di ritrovare le chiavi o il cellulare smarriti. Il premio per la categoria Best Social Innovation va a Cardionica che crea un cerotto sensorizzato per la diagnosi domiciliare e automatica della fibrillazione atriale. Ultimo premio da 10.000 euro alla Best Startup incubata in uno spazio attivo va a SpaceX, nata nel 2013, sviluppa e crea prodotti ad alto valore tecnologico nelle telecomunicazioni, nell'aerospazio, nell'elettronica e nella difesa. Il Lazio sta cambiando, per questo noi abbiamo premiato le migliori startup innovative nel campo del sociale, della produzione o startup incubate nei luoghi dell'innovazione che la regione ha messo in campo. Ma soprattutto dentro una strategia di cambiamento abbiamo annunciato che da domani inizia la possibilità per le aziende di startup di vedere rimborsata l'IRAP. Chi produce innovazione avrà un rimborso IRAP, noi non possiamo tagliarla perché siamo una regione commissariata, ma possiamo rimborsarla. Questo è un incentivo all'innovazione che offre il Lazio per chiamare da tutta Italia, ma non solo da tutta Italia, a venire a creare innovazione, lavoro, ricchezza nella nostra regione che ha delle potenzialità enormi perché è il luogo delle università, delle grandi aziende multinazionali, delle piccole e medie imprese. È una delle regioni nelle quali le imprese crescono di più. Anche il differenziale tra quelle che aprono e quelle che chiudono vede il Lazio leader. Ora noi questo spirito innovativo lo vogliamo rafforzare. E quindi è una grande sfida e si vede dall'effervescenza che c'è in queste occasioni è una sfida che stiamo vincendo.